Una buona giornata a tutti cari amici per annunciarvi semplicemente che alle 15.30 quindi fra un'oretta ci sarà la diretta con Massimiliano Ambesi per parlare un po' in generale di sport invernali per analizzare questa stagione che si è appena conclusa con i mondiali di pattinaggio di figura con l'ultimo weekend di salto con gli sci e quindi insomma tracceremo una riga su questa stagione e ovviamente vi potete collegare su Instagram per fare domande oppure fate qui su Youtube e poi tanto la diretta sarà ricondivisa anche proprio qui su Youtube e a questo punto ragazzi un saluto vi aspetto numerosissimi appunto per la dieta con Massimiliano Ambesi a presto